Da i fratelli dello spazio attraverso Wanda cura di Vubbi. Salve, dopo un periodo di sosta, oggi giorno del Signore, riproponiamo il nostro dire a te, sorella. Data l'intesa che esiste tra la nostra vibrazione e la tua, ormai non ci sarebbe più bisogno di parole che però sono ancora necessarie, perché altrimenti tu, cara sorella, non potresti farci conoscere ad altri fratelli. Con la nostra vibrazione noi ci avviciniamo a tanti fratelli che non ci ascoltano, ma non ci stupiamo perché, se sono chiusi alla forza primaria, che è la forza del Cristo, come possono percepire la nostra che a paragone è così piccola? Noi però siamo tenaci e non ci arrendiamo. Questo è il nostro lavoro e, a forza di battere e ribattere, ci inseriremo nel cuore di tutte le creature aperte e propense a dialogare con noi. Cara sorella, dopo aver riflettuto, siamo arrivati alla conclusione che anche noi possiamo chiamare ed esprimere il nome della forza cosmica, come fate voi, Padre o Dio. La sostanza non cambia. L'importante è riconoscere nel Padre la potenza e l'amore, dargli il giusto valore e riconoscerlo come tale, affidandoci a Lui per raggiungere la nostra meta. In questo momento e in te non ci sono domande né pensieri che, attraverso la tua mente, diventino vibrazione, innalzandosi per raggiungere alti livelli. Come mai questa sosta? Eppure sei gratificata da quanto ricevi? Continua Eppure sei gratificata da quanto ricevi? Grazie Grazie Grazie.